Giroud! Giroud colpo di testa, parata, respinta, respinta di consigli, Giroud vicino al gol Occasione colossale per Olivier Giroud, Milan vicinissimo al gol del vantaggio, colpo di testa da posizione favorevolissima Tonali, Tonali, Leao, Leao si mangia un gol a O! No, l'ha murato, è murato, è stato murato Angolo Milan, occasione colossale anche per Leao Angolo Milan, Tizzi, vai Angolo, palla dentro Oh, deviazione, una respinta sulla linea Batti e ribatti e poi allontanano i difessori del sastuolo Ragazzi, ragazzi, ragazzi! Mamma mia, due palle gol e una più incredibile dell'altra Direi tre più che due Due occasioni clamorose Occhio Tizzi Attenzione, Salome Kerr, Salome Kerr Ma ancora tu per tu con consigli, consigli in tuffo E via e mette in calcio d'angolo Altra occasione, altra occasione Salome Kerr, Cune in area Tu per tu con... Quarta palla gol Mila che si sta divorando Occasioni da gol a ripetizione Leao, tocco centrale Gol di Giroud Gol di Giroud Gol di Giroud Gol di Giroud 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 Grande Leao Giroud, grande Leao Mila in vantaggio Ole di Giroud È arrivato 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 È legale di Giroud Minano in vantaggio con Olivier Giroud Dopo 17 minuti di gioco È legale di Giroud Ho un po' di ammoriare rispetto da consigli Attacco ancora sulla sinistra No! Sulla Lillia un salvataggio sulla Ligia un salvataggio ci stava il 2 a 0 mamma mia quante palle e gol mamma mia che Milan bello, devo dire c'è i tuoi che devono giocare una partita Tiziano tu ricordi un Milan così in tutta la stagione ma no non lo ricordavo Giro e Giro e Giro e Giro e Giro mette dentro 2 a 0 2 a 0 Giro 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 e dai gol di Giro Sambicina con la roba lì Sambicina raddoppio del Milan, stessa identica azione di prima 2 a 0 stessa azione di prima inventa Leao, rifinisce Giro mi sembrava facile da controllare perde palla ancora Leao, tocco centrale chi ce si che si che si e dai e dai sa 3 a 0 gol di Kessy su assist di Leao e 3 assist terzo gol del Milan terzo gol del Milan ancora assist di Rafa Leao gol di Frank Kessy grande parata di Mignan c'è anche il Sassuolo grande parata di Mignan che ha evitato il gol del 3 a 1 Leao è col Libra gol e col Libra è arrivato su cross di Leao e 4 gol 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 Libra gol Libra gol Libra in testa su cross di Leao Leao ancora una volta quarto assist di Leao Quarto gol del Milan Però non ho visto esultare granché i compagni insieme a Ivra Infatti è fuori gioco Anullato Infatti è fuori gioco Anullato In questo momento l'obiettivo è quello di Sostanzialmente far segnare Ibrahimovic Col gesto di Calabria 84 minuti Come vi dicevo la festa rossonera è sostanzialmente già iniziata Possiamo andare a vedere le prime immagini A sinistra Piazza del Duomo A destra Casa Milan Abbiamo telecamere da una parte e dall'altra Per farvi vivere una lunga serata Ovviamente non si sapeva se sarebbe stata colorata di rosso nero o di nero azzurro Adesso l'idea ce l'abbiamo Mi sembra che la tendenza sia abbastanza evidente Ragazzi L'ultimo scudetto 7 maggio 2011 Dai 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 Siamo una squadra Che vince Siamo uno squadrone Ogni tanto Meglian Finita Siamo campioni d'Italia Siamo campioni d'Italia Siamo campioni d'Italia Undici anni dopo Campioni d'Italia Campioni d'Italia Grazie ragazzi Grazie Pioni Grazie ragazzi Siamo campioni d'Italia 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 Il Milan ha vinto il campionato Milan campione d'Italia 2021-2022 Bello questo Complimenti all'Inter Ha fatto un ottimo partito Complimenti Complimenti Il Seleritato Bravi Bravi a voi Grazie per le emozioni che ci avete regalato Per tutto l'anno 38 partite 4033 giorni fa Eccole le immagini di festa Piazza del Duomo alla vostra sinistra Casa Milan alla destra Perdonateci qualche imperfezione nel segnale Ma voi potete immaginare Migliaia di persone Hanno i telefonini accesi